Sono molto contento che abbiamo trovato in una sala, qui ci sono 90 stigioni e in modo che in turno 20, porto 89, ci sono stati occupati. Questo mostrava un interesse pubblico per il tema qui, lo che mi sono molto contento con il nostro primo ministro, ma anche qui, a pesar che si tratta di un tema molto forte, molto controverso, perché ora il tema di oggi, la criminalità gubernamentale e il minamento del Stato, mi chiedo che per un governo, qualche cosa, si tratta di un tema che si tratta di un spantanamo, ma non mi sono contento e mi chiedo con questa idea di mostrare anche un tipo di compromesso per realmente lavorare nella realizzazione di una buona governazione. La gente non ha capito ancora di comprenderla lo sufficiente, il effetto negativo di una buona governazione arriva nella vita personale e arriva al potenziale di un paese. nel momento in cui c'è malcomitazione e corruzione, la gente non ha capito ancora di investimento, senza sicurezza, senza infrastruttura, ma lo ha capito ancora di investimento, e mi chiedo che a tutti alcuni sono sempre interruttamati, ma non ha capito ancora di fare buona quando si tratta di spedervare, ma non è iniziare a fare buona e a venderembilamenti, ma aumentare la vita di l'intervozio della nostra società, e non per tenere in conto di una insegnanza, ma stai cercando di attra, stai cercando di causa che è molto importante, che è un'educazione nella scuola, non stai preparando per la comunità che si è cambiato, che si sta cambiando e che si sta cambiando lì. Mi piace molto impressionare con la quantità di preghi, che sono davanti e per sovrapposti, non è un certo momento anche, che la gente sta rinando un tema molto importante. E se ti mostrano l'interesse di gente, l'interesse di ambito, per sovra, abbiamo una domanda di l'anima, per esempio, con questa forma attuale di governazione, di quanto scogli un parlamento, quanto scogli un governo, da un motivo, che cosa non va a essere male. Non si non si non si tratta di un sistema che si è creata 200 anni passi, e che tal vez abbia tempo realmente per buscare una forma nuova, un modello democratico nuovo. e sei, porta ma che buon tema per un seguente simposio, per un altro anno. e sei, questa è la rubia, e website. Grazie a tutti.